Io sono nata libera direttore e soprattutto sono nata fiera di essere parte di questa storia degli alpini e quando qualcuno pensa di infamarla sappia che mi troverà sempre duramente schierata e mi interessa poco che queste anime belle un po' ipocrite facciano la difesa della donna a spot perché quando abbiamo utero in affitto, madri povere costrette a vendere il proprio corpo e il proprio figlio queste signore stanno zitte, allora io faccio l'assessore alle pari opportunità al lavoro, alla formazione, all'istruzione tenendo ben chiara che c'è la dignità della persona, vale anche per tutto questo fango che sta muovendo e per il quale secondo loro io dovrei dire acriticamente che ci sono state centinaia di molestie solo perché l'hanno detto loro, mi spiace, se ci saranno dei fatti, come ho detto e ripeto, dovranno essere verificati e la condanna va da sé evidentemente, io oggi esprimo la solidarietà al corpo degli alpini perché conosco quello che rappresenta grazie 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 grazie